Quando vi candidate, quando vi proponete a uno studio dovete trasmettere questo, autonomia, capacità di fare del lavoro al posto dell'imprenditore così lui ha più tempo libero, più possibilità per fare altro, per far crescere la propria azienda, per stare con la famiglia, tutte cose che un imprenditore, un professionista trascura perché il dipendente alle 6 del pomeriggio o alle 5 o alle 8 o quello che è, chiude il pc e va a casa. L'imprenditore continua a lavorare fino al dopo il weekend, cioè lo smette mai perché la sua testa è sempre lì sul business, quindi voi dovete capire che quando voi vi proponete a un'azienda, a uno studio, ad un imprenditore, state parlando con una persona che ha queste problematiche e dovete fargli capire che voi questi problemi li capite e li risolvete attraverso il vostro lavoro.